La Regione Campania ha pubblicato il Bando Artigianato 2018. La misura, dotata di risorse complessive per 28 milioni di euro, incentiva l'artigianato campano, in particolare quello artistico, e favorisce l'ammodernamento delle imprese artigiane di tutti i comparti, agevolando l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di nuove tecnologie, soprattutto digitali, nell'impresa artigiana campana. A renderlo noto, in una nota stampa, la Confartigianato Salerno sede Vallodidiano con la sua responsabile territoriale, la dottoressa Maria Antonietta Quino, che continua con costanza l'attività di affiancamento e informazione per le opportunità lavorative per le piccole e medie imprese. Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese artigiane annotate nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, istituita presso una delle camere di commercio presenti sul territorio regionale ed aventi sede legale ed operativa nel territorio della regione campania. Possono accedere alle agevolazioni anche aggregazioni di imprese artigiane sotto forma di consorsi o società consortili e le reti di micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un progetto di rete con almeno due imprese artigiane presenti. Il bando prevede tre linee di intervento, promozione e valorizzazione di imprese artigiane, artistiche e religiose, mediante l'ammodernamento e la diversificazione per le imprese tipiche di qualità legate alla creatività e all'arte. Poi innovazioni delle imprese artigiane, mediante il finanziamento di interventi diretti all'impiego di nuovi modelli di produzione e di business che utilizzano processi di digitalizzazione, nuovi beni strumentali e sistemi di progettazione computerizzata. Ed infine sviluppo di nuove tecnologie nella fruizione dei servizi delle imprese artigiane. La presentazione delle istanze di accesso alla misura potrà avvenire dalle ore 10 del 25 maggio prossimo e la Confartigianato Vallodidiano a questo proposito si rende disponibile per ogni informazione. L'artigianato è un settore di vitale importanza per l'economia del nostro paese, è sicuramente fondamentale sostenerlo e promuoverlo attraverso ogni mezzo, ha detto la dottoressa Quino, come questo nuovo bando della regione Campania e noi come sempre siamo disponibili a dare informazioni puntuali e dettagliate in merito nonché assistenza nella redazione del progetto.